Topolino, Topolino Allora siete pronti per la sfilata? Siamo pronti, la musica della pace La musica della pace, cosa vuol dire la musica della pace? Vuol dire una musica secondo noi che non deve dare guerra e noi dobbiamo rimanere vivi Topolino, Topolino, viva Topolino E naturalmente non possono mancare i Topolini, questa è la band di Topolino con un improbabile maestro che li sta dirigendo Sei pronta per sfilare? Sì E cos'è questo? Violino Violino, pronti? Allora via! Io faccio parte dell'allegria, noi impersoniamo le emozioni che vive un bambino e che vive anche un grande La felicità, la rabbia Allora il carnevale serve per ritornare anche un po' bambini Sì, sì, sì Quanti siete? Tanti, siamo un bel gruppo La luce Chi siete? L'asile della luce Perfetto Voi siete? Scuola San Sebastiano Bellocchi Cosa sareste? Acqua, aria, terra, fuoco So il più forte e so il più bravo So il più forte e so il più bravo Uscita ufficiale della maschera del Vulon interpretato da un personaggio conosciuto Insomma, come ci si trova nei panni? Lino, Lino, alla grande! So tutti, fac tutti, so il più bel! Non a caso sei il Vulon! È il Vulon! Potete fare anche noi! Ragazzi, come state? Bene! Chi siete voi? I consigli dei bambini! Come noi bambini, tu sei tanto piccoli Topoli, Topoli, viva Topoli! Allora, il corteo è partito, c'è il consiglio dei bambini Naturalmente, questa mascherata e questa mattinata in collaborazione con la città dei bambini e delle bambine Paolo Stolf, allora, un avvio, diciamo, sotto l'insegno della gioia e della felicità Insomma, i bambini stanno colorando via le Gramsci Sì, esatto, e sono pronti anche a cogliere tutti quelli bambini che arriveranno oggi a Fano Sanno tutto sui carri, sono stati giù dai carristi Sanno cosa c'è rappresentato, come funzionano Quindi sarà anche un modo giocoso per spiegare il senso del carnevale e il lavoro che c'è dietro E gli mettiamo da subito, fin dalle prime età, insomma, il semino della creatività Della creatività, bravo! Beccata in flagrante, in tema rossiniano, Rosina Salve, buongiorno, buon carnevale a tutti Tanti, tanti alunni quest'oggi a sfilare qui insieme a voi Ben 180, di tutto il circolo didattico Fano San Lazzaro Bene, il tema è? Il Barbieri di Siviglia, in onore di Rossini Insieme ai bambini non potevano mancare i nonni, cioè due elementi molto molto vicini Esatto, nonni e bambini, una copiata vincente Prima sfilata di questa edizione del 2018 del carnevale di Fano Si avvia al giro finale, hanno fatto il primo giro, tutte le mascherate, tutti i bambini e i cari di seconda categoria che li hanno accompagnati E quindi vediamo una prospettiva di un Viale Gramsci bello pieno Nonostante, insomma, il tempo non sia bellissimo Però ha aiutato ad arrivare qui sul percorso Ai tanti bambini che sono arrivati per il carnevale E la sfilata a loro dedicata E la sfilata a loro dedicata